ciao a tutti e benvenuti nel canale di miss bimbi caccia quello che vi presento oggi è una ricetta molto simpatica che ho trovato nel web da giusto per il gusto una ricetta molto sfiziosa carina ma ottima cosa avrò fatto mai allora guardate che carini sì che sono i classici ravioli che si fanno nel periodo di carnevale con ricotta e gocce di cioccolata soltanto hanno una forma diversa e colorati e vengono chiamati gli arlecchini appunto perché ricordano questa forma del vestito di arlecchino colorato ve li faccio subito vedere eccoli qua vediamo un po' se rende l'idea allora ve ne prendo qualcuno per farvelo vedere guardate che idea sfiziosa e carina allora possiamo farli vedete rosa possiamo farli sul blu possiamo farli semplicemente così guardate che carini a forma di rombo che appunto ricordano il vestito di arlecchino per questo prendono il nome di arlecchino allora la ricetta è molto semplice è una frolla molto friabile e nello stesso tempo oddio vedi ecco metto a fuoco molto vedete morbida è veramente buona semplici da fare semplice da lavorare a proposito è fatta con l'olio è la prima frolla che provo a fare con l'olio e devo dire molto elastica lavorabile tiene molto bene la cottura non si è spaccata devo dire che sono rimasta molto molto contenta e appena assaggiati usando questa ricetta ho fatto una piccola modifica sullo zucchero continuavo a sentirli leggermente sciapi ora li ho fatti ieri sera li ho assaggiati questa mattina e devo dire che secondo il mio gusto sono perfetti quindi la ricetta richiedeva mi sembra 70 originale 70 grammi di zucchero io ne ho messi 90 sono dolci ma non dolcissimi quindi se volete sentire il gusto all'interno e che prevale della ricotta potete lasciare questa grammatura altrimenti io farei un 110 o 100 grammi anche di zucchero quel poco per farli un pochino più dolci io sinceramente li trovo ottimi sono veramente soddisfatta perché sono carini mi sono divertita a farli ve li consiglio un'idea sfiziosa da mettere sulle tavole colorati ho usato il colorante in gel e vi farò vedere passo passo come ho colorato la frolla è molto semplice perché basta insomma mettere un po di colorante gel dividere la frolla in due o tre parti dipende da quanti colori volete fare lavorarla con le mani è molto semplice quindi che altro dirvi vi lascio semplicemente alla ricetta è un'idea sfiziosa e carina poi sono davvero molto morbidi quindi quindi divertitevi mi raccomando fatemi sapere e vi lascio alla ricetta passo passo e vi invito come al solito se a iscrivervi al mio canale come di consueto sulla vostra destra trovate la freccetta dove c'è scritta tutta la ricetta e vi aspetto anche sui social sul mio gruppo facebook e voi noi e bimbi e sulla mia paginetta miss bimbi caccia dove trovate tutti i miei video tutte le mie ricette e se volete potete postare anche i vostri lavori vi lascio a questa simpatica ricetta gli arlecchini ripieni con ricotta e gocce di cioccolato e un bacione a tutti mi raccomando pollicino in su e iscrivetevi prima di abbandonare il gruppo il gruppo prima di abbandonare il video è fuori fase lo sapete che la mia la faccio sempre quindi un bacione prova assaggio inseriamo nel boccale 90 grammi di zucchero semolato con la scorza di mezzo limone e mezza d'arancia ed azioniamo per 15 secondi alla velocità 10 aggiungiamo poi 300 grammi di farina tipo 00 60 grammi di olio di semi di girasole due uova mezzo cucchiaino raso di lievito per dolci ed azioniamo alla velocità 5 per 20 secondi questo è il risultato la frolla è pronta per essere trasferita su un piano di lavoro leggermente infarinato se occorre aggiungere altra farina e lavorarla con le mani finché la frolla non risulterà ben lavorabile mentre la lasciamo riposare in frigo andiamo a preparare il composto per il ripieno mettiamo nel boccale 80 grammi di zucchero semolato e 300 grammi di ricotta di pecora ben sgocciolata azioniamo per 20 secondi alla velocità 5 trasferiamo la ricotta in una ciotola ed aggiungiamo circa 100 grammi di gocce di cioccolata riprendiamo l'impasto e dividiamolo in più parti e ad ogni parte con uno stuzzica denti aggiungiamo del colorante in gel impastiamo con le mani fino a che il colore non sarà omogeneo ripetiamo l'operazione però ottenuta dalla frolla colorata andiamo a stendere il primo panetto e con uno stampino a rombo cominciamo a dare forma ai nostri ravioli ripieni al centro aggiungiamo ad ogni forma un cucchiaino di ripieno di ricotta e gocce di cioccolata posizioniamo sopra delicatamente l'altro impasto e con decisione pigiamo i bordi con una forchetta per chiuderlo ermeticamente ripetiamo l'operazione per ogni frolla colorata che abbiamo creato a 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 dopo averli adagiati in una teglia ricoperta da carta forno inforniamo a 170 gradi a forno caldo statico per circa 15-20 minuti a gli arlecchini ripieni di ricotta e gocce di cioccolato sono pronti da gustare buon appetito da miss bimbi alla prossima ricetta